...lo spirito di fraternità vicendevole, artico 1 di dichiarazione universale dei diritti dei poveri. Tutti i cittadini hanno pari di dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, artico 3 della Costituzione italiana. Detto questo, questa firma oggi non è un qualcosa di scritto su una carta, ma è un qualcosa che fa prevalere l'amore. E, come ha detto il padre della cultura italiana, l'amore che muove il sole e l'altestismo. E io ho messo una domanda. Grazie. E ora ci provo, sarà un po' dura, però... Allora, io volevo ringraziare innanzitutto il comune di Montevarchi, Isabel Dini, di Abazarvi, la Commissione delle Pari Opportunità e tutti coloro che hanno intrapreso questo percorso per arrivare a questo, a raggiungere questo obiettivo, che sicuramente è un obiettivo importante, è un primo passo. A maggior ragione in un momento come questo, in cui l'Italia si lotta per riuscire ad avere insomma dei diritti, dei diritti che poi in realtà dovrebbero essere un po' scontati, però insomma in questo paese ancora non lo so. Ho difficoltà a trovare altre parole, però vorrei ringraziare soprattutto le nostre famiglie. applausi, grazie. 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 Grazie.